Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale Ragazzi oggi doppio video sulla Juventus, quindi una giornata bella intensa per quanto riguarda i colori bianconeri Il video in questione è su Paul Pogba per quanto riguarda il suo infortunio Ovviamente abbiamo delle nuove notizie, dei nuovi aggiornamenti che possono veramente far preoccupare la tifoseria bianconera E poi ovviamente parleremo anche di Barcellona Juventus in un altro video dedicato Perché ieri ho mostrato sul canale i gol del match ma adesso è ora anche di parlare della partita nello specifico Innanzitutto parliamo di Pogba perché Pogba è costretto a rientrare in Italia a causa di questa maledetta lesione al menisco laterale del ginocchio destro Dopo il consulto con i medici della Juventus ma anche con i medici della nazionale francese Lui appunto sceglierà con calma quale intervento sottoporsi E questa è una scelta cruciale come andremo appunto a spiegare in questo video Sostanzialmente ci sono due ipotesi La prima è la rimozione del pezzo di menisco lesionato E quindi questo intervento ha una data di rientro per quanto riguarda Paul Pogba E l'altra ipotesi è la sutura della lesione con ovviamente conseguenze e tempi di recupero nettamente diversi E andiamo un po' nello specifico ripercorrendo anche la storia di Pogba con gli infortuni Perché ovviamente non si tratta del primo infortunio di Paul Pogba nella sua carriera recente E quindi parliamo anche di questo Nella testa di Pogba non doveva andare sicuramente così ma probabilmente neanche nella nostra Avevamo tutti immaginato un ritorno alla Juventus decisamente diverso Lui probabilmente sognava la tournée negli States con la Juventus Sognava comunque di fare bene in questo ritorno alla Juventus Anche sin dalle prime amichevoli prestigiose Quindi Barcellona, Real Madrid, l'emozione di vestire nuovamente la maio numero 10 Noi che dopo tanti anni finalmente abbiamo ritrovato Pogba alla Juventus Erano anni che lo aspettavamo E invece il francese si è subito trovato di fronte ad un ostacolo inaspettato E che lo ha costretto anche a fare già rientro in Italia Ripercorrendo un po' la storia Sabato 23 luglio Pogba si è infortunato da solo Ed è questo un aspetto importante purtroppo Non è stato un contrasto a ferirlo Ma lui si è infortunato da solo Ha sentito una fitta mentre provava a calciare Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione al menisco laterale del ginocchio destro Che dovrà essere risolta con un'operazione E il dubbio sta proprio qui A quale intervento dovrà sottoporsi Paul Pogba? Perché esistono due strade possibili Ma prima di decidere quale direzione percorrere Il centrocampista avrà un confronto a Torino con lo staff medico della Juventus A cui successivamente verrà appunto sottoposto anche ad un altro controllo Un altro consulto anche con i medici della nazionale Perché ovviamente a novembre inizierà il mondiale E le due operazioni avranno un impatto clamoroso anche per quanto riguarda il mondiale Quindi attenzione perché la Francia si presenta a questo mondiale da campione in carica Vuole Pogba ovviamente Adesso quindi il centrocampista si troverà di fronte Come ho detto prima a un bivio Sa che dovrà operarsi Resta da decidere però il tipo di operazione E il dubbio verrà sciolto nelle prossime ore Ovviamente sul canale vi terrò aggiornati Intanto vediamo nello specifico in cosa consistono questi due interventi E quali sono i tempi di recupero in entrambi i casi La prima ipotesi come ho detto prima è quella della rimozione del pezzo di menisco lesionato Tecnicamente è un'operazione un po' più conservativa E quindi consiste nella sportazione del pezzo di menisco lesionato È un intervento più semplice che prevede una riabilitazione più rapida Il calciatore in questo caso potrebbe tornare in campo in tempi di recupero Che varano da un mese a due mesi massimo Quindi la partecipazione al mondiale non sarebbe in discussione Ma quali sono i rischi di questo tipo di operazione Nel breve periodo abbiamo ovviamente solo vantaggi Come ad esempio il rapido rientro in attività I problemi però tuttavia potrebbero sorgere sul lungo periodo Perché con il passare degli anni L'articolazione potrebbe risentire dell'assenza di una parte del menisco Quindi possibili conseguenze sulla durata della carriera del calciatore Sul quotidiano utilizzo del ginocchio A prescindere dalla pratica sportiva Quindi con questo tipo di operazione c'è comunque un rischio di condrolisi Che è una rapida degenerazione delle cellule cartilagene E in parole povere il ginocchio diventerebbe più fragile e meno elastico Questo tipo di interventi sono praticamente scelti dai calciatori Quando loro hanno 30 anni in avanti Quindi quando la carriera non è a rischio Quindi loro possono tornare in campo nel più breve tempo possibile E poi sì la cartilagene diventa più fragile Ma tu hai già 33-34 anni Quindi praticamente sei già grande e a carriera quasi finita L'ipotesi 2 invece è quella che percorrono i giovani Che si trovano di fronte a questo tipo di operazione E quindi questa seconda operazione che è la sutura della lesione Consiste nella riparazione del menisco E quindi rispetto alla prima opzione La seconda modalità è molto più difficile come intervento Lo stop è molto più lungo perché varia dai 3 ai 4 mesi A cui dobbiamo comunque inserire la riabilitazione successiva E quindi questo vuol dire che Paul Pogba salterebbe il mondiale in Qatar in programma E quindi questo tipo di operazione ovviamente eliminerebbe il problema in futuro In maniera definitiva Cioè Pogba non avrebbe mai più problemi al menisco del ginocchio destro Quindi mai più problemi Cosa che invece nell'ipotesi 1 potrebbero Problemi che potrebbero assolutamente arrivare successivamente E quindi attenzione Perché ovviamente il fatto che lui dovrà rinunciare al mondiale È un sasso bello grande da porre sulla bilancia di Paul Pogba Quindi al momento al rientro in campo della guarigione Sarebbe praticamente al top della forma Però salterebbe il mondiale E rientrerebbe al massimo della potenza il prossimo anno Quindi è una tecnica che solitamente viene consigliata soprattutto ai giovani Quindi chi ha una lunga carriera davanti da preservare Quindi è una situazione veramente molto molto complicata Vedremo quale sarà la scelta di Paul Pogba nello specifico Ma in tutto questo ovviamente la Juventus dovrà anche cautelarsi sul mercato La prima opzione che tutti i giornali hanno portato è che l'uscita di Rabiot Fosse appunto stata congelata, bloccata E invece no Perché da un punto di vista del mercato Rabiot continua ad essere in uscita Contatti nella giornata di oggi Fra lui e l'entourage del Monaco Quindi Rabiot vicino al ritorno in Ligan E quindi attenzione perché la Juventus vuole comunque intervenire sul mercato Il primo nome è quello di Paredes Ma lo stop di Pogba comunque lascia Rabiot in uscita In tutto questo anche Arthur è vicino all'uscita Sono arrivate le prime offerte ufficiali per lui E la più importante è quella del Valencia di Gattuso Che ha offerto un prestito con diritto di riscatto In gaggio pagato al 50% dal Valencia e dal 50% dalla Juventus Quindi in questo momento c'è tanta distanza fra Arthur e il Valencia Però intanto la Juventus continua a muoversi sul mercato La pista Zaniolo sembrerebbe essere abbandonata del tutto La Juventus si è fiondata su Paredes come priorità E quindi attenzione perché Paredes potrebbe appunto arrivare Nel caso in cui Rabiot e Arthur dovessero appunto uscire Dovessero essere confermate le loro uscite E attenzione sempre all'ipotesi Fagioli e Rovella Perché io ad esempio terrei entrambi al 100% In pianta stabile in questa Juventus Ma la Juventus vuole tenere uno dei due E in questo momento è in pole position Nicolo Fagioli per la permanenza Rovella invece è molto più orientato alla partenza E sarà per lui probabilmente prestito secco alla Salernitana Vedremo perché comunque lo stesso Allegri Ha parlato in maniera entusiasta di Rovella E ne parleremo nel video successivo E quindi attenzione perché Pogba Le due ipotesi di guarigione Le due ipotesi di operazione E quindi mercato della Juventus Che cambia in maniera repentina Ragazzi però adesso tocca a voi Ditemi la vostra nei commenti Di come l'avete presa quest'oggi Sulla notizia di questo stop Che potrebbe essere addirittura di 4 mesi Per Paul Pogba E quindi ditemi la vostra nei commenti Mettete like se questo video vi è piaciuto Iscrivetevi a questo canale Se non volete perdere nessun aggiornamento Sui miei video futuri ragazzi Vi saluto Ciao a tutti da Domenica Versa Ciao a tutti raga Ciao a tutti